Coloro che sono intervenuti questa sera, innanzitutto voi per essere qui presenti, e poi l'amico Claudio Saltarelli con il quale ormai abbiamo iniziato questo rapporto di collaborazione con la sua associazione e con il quale abbiamo appunto stipulato un protocollo di intesa proprio finalizzato alla ricerca e alla discussione dedicate a questi temi particolari che vanno dalla pre-unità d'Italia e anche il post, perché abbiamo trattato di brigandaggio post-unitario e di situazioni e momenti che il nostro territorio ha vissuto dal 1861 in poi. Quindi grazie Claudio, così come ringrazio Fernando Riccardi, scrittore e storico, esperto proprio di questo periodo storico, e i suoi libri, lo dico sempre, dovrebbero entrare nelle scuole, ma pare che ci stanno entrando, come si dice, dalla finestra, non dalla porta, ma ci stanno entrando dalla finestra, quindi speriamo che diventeranno oggetto di studio da parte anche degli studenti. Così come ringrazio il nostro socio onorario, Alessandro Masella, che si fa promotore spesso di queste iniziative storiche, lui oltre ad essere medico è un appassionato filosofo e storico, con lui abbiamo già svolto incontri di storia e ne svolgeremo ancora ad altri. e ringrazio, non per ultimo, il nostro ospite, il dottor Francesco Caracciolo, il principe Caracciolo, discendente di Casa Borbona, e la sua gentile signora qui presente, per aver accettato l'invito ad essere qui con noi e a discutere di questo tema, l'avvio dell'industrializzazione nel Regno di Napoli, Sì, perché prima dell'Unità d'Italia il Regno di Napoli era ricco di fabbriche, era ricco di industrie, e potremmo chiederci perché oggi non guidiamo automobili costruiti a pietrazza, per esempio, oppure perché non usiamo sapori bevi l'acqua o orologi marantonio, tanto per dirne alcune di quelle aziende che producevano allora, oppure perché non indossiamo maglioni sale, oppure quali erano più o meno i prodotti che nell'Italia meridionale di quegli anni si producevano e che oggi purtroppo non si producono più, quindi queste possono essere delle domande che potremmo farci e per le quali potrebbero essere utili appunto cercare delle risposte. Noi qui vicino avevamo, ecco, mi suggeriva Raffaele, l'azienda dei Pannilana, proprio a Cerrito, che forniva la Real Casa a Napoli, ha fornito l'esercito borbonico, le divise dell'esercito borbonico venivano lavorate qui, a Cerrito, alla famosa tinta, di cui era socio della società Antonio Massone, uno dei proprietari di questo palazzo, era socio di maggioranza di questa fabbrica che c'era lì a Cerrito. Così come potremmo parlare delle sedi di San Leucio, così come si può ancora discutere su come le fabbriche del Regno di Napoli furono influenzate dalle prime fabbriche che invece poi nacquero in Inghilterra, perché il prototipo di fabbrica fu proprio, nacquero proprio in Inghilterra, prima di arrivare poi nel Regno di Napoli. Così come potremmo dire la svolta che ci fu proprio con le fabbriche del Regno di Napoli quando Ferdinando creò addirittura i sindacati. Cioè i lavoratori erano protetti e San Leucio ne è un esempio perché lì c'erano le case per i lavoratori e avevano la loro protezione con i loro datori di lavoro. Quindi potremmo farci tante domande sull'industrializzazione che poi dall'industria nel Regno di Napoli si passava decisamente anche negli aspetti artistici e culturali perché la nascita di tanti conservatori, San Pietro Ammaiello, uno dei primi conservatori in Europa, così come il Teatro San Carlo, il primo teatro lirico in Europa, tante facoltà universitarie. Insomma potremmo veramente allungarci in un elenco di grandi iniziative che furono realizzate in quel tempo. Ma ovviamente, poi c'è il... Ancora oggi noi conosciamo il museo, appunto lo citavo prima, di Pietrarza, chi c'è stato ha visto come la prima ferrovia, insomma, la Napoli porta. E quindi ecco, intorno a questo tema noi abbiamo ragionato e perciò abbiamo pensato anche di parlarne questa sera in maniera più generica con Francesco Caracciolo che io ringrazio ancora una volta e ringrazio voi qui per essere qui presenti. Grazie.